Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 16 aprile. Ariete, giovedì di ordinaria routine. Un po' sonolento, stranamente manca una buona manciata di verde per dare un'impronta dinamica alla giornata. Un atteggiamento passivo vi procura una lieve insoddisfazione e qualche inevitabile senso di colpa. Toro, complice la luna in pesci, la giornata imbocca la direzione giusta. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese da parte della persona amata, chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccoli vinciti al gioco, inviti inattesi, proposte interessanti. Gemelli, una parentesi di malumore causa il passaggio odierno della luna in pesci. Le intenzioni, seppure generose, appaiono prive di sbocchi concreti. A scoraggiarvi entra in gioco una delusione professionale, molti ostacoli vanificano gli sforzi compiuti. Cancro, una bella giornata da vivere tutta in spensieratezze. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura, sorprese piacevoli. Leone, nel conto in banca potrebbe aprirsi una falla a causa di una spesa extra o di una eccessiva prodigalità da parte vostra. Inquietudini del cuore, inutile piangere ormai sul latte versato, moderate i vostri costosi entusiasmi e stringete la cinghia. Vergine, ripensamenti e qualche passo falso, sono questi i frutti del passaggio della luna in pesci, contrattempi, insicurezze e dubbi. Gli amici solleciti fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando e non dando troppo peso alle vostre paturbe. Bilancia, dovrete fare appello alla vostra razionalità per ridimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire nel contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente occupandovi di quello che vi piace e mantenendo il distacco emotivo. Scorpione, incontri ed esperienze movimentano la quotidianità, creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta piacevole, cambiamenti positivi su tutti i fronti. Sagittario, come di consueto, la luna in pesci vi procura qualche noia, insofferenti e distratti, bisticciate con familiari e vicini di casa per futili motivi. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate la causa tra le vostre paure e incertezze. Capricorno, la luna in pesci vi regala un giovedì stimolante, ricco di propositi costruttivi, coinvolgimento profondo con il partner e con i familiari, incontri con gli amici e sorprese amorose piacevoli per finire in bellezza la serata, affari redditizi. Aquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti, strategie difensive per prendere tempo rispetto a questione di cuore forse ancora non del tutto chiare. Pesci, gli ostacoli non mancano, ma nei momenti difficili avete qualcuno che vi aiuta. Grinta e pianificazione, un mix vincente, sereni e rilassati con il partner, piacevolmente stimolati dagli amici che vi coinvolgono in iniziative innovative.